Il concorso Milano da Vinci è un'iniziativa promossa da Fondazione Italiana Accenture in collaborazione con il Comune di Milano e con il contributo della Scuola Civica di Cinema di Milano e si inserisce nel palinsesso di iniziative che il Comune di Milano promuoverà nel corso di 2019 per ricordare i 500 anni della scomparsa di Leonardo. Con molta convinzione partecipiamo a questo progetto con la nostra scuola di cinema Lucchino di sconti, un'occasione di formazione, di crescita professionale che anche chi non vincerà avrà modo di vedere e quindi di vedere crescere la propria possibilità di dare un contributo tecnologicamente ma anche artisticamente di alta qualità.